Salve a tutti ragazzi e benvenuti in quello che sicuramente sarà l'ultimo video di questo mese e i prossimi mesi perché oggi è l'ultimo giorno che mi trovo in questa fantastica casa ovvero domani tutti a mare allora premetto per dirvi per favore almeno in questo video cercate di arrivare fino alla fine giuro che non durerà più di 3-4 minuti sarò breve e coinciso allora innanzitutto mi vedete solo mi scuso con Ale se non l'ho potuto chiamare ma il tempo scorre come l'acqua della ruggiata la mattina che poi se non c'è ruggiata la mattina sono tutte balle dei grandi per farti bere l'acqua della ruggiata fino a ora siamo arrivati a 137 iscritti e devo dire che è una bella somma vi ringrazio, vi ringrazio sia a quelli che sono solo iscritti così a minchia giusto per dire il fitito numero ma è bello sia a quelli soprattutto a quelli che non ci hanno continuato a seguire vi adoriamo più di quanto un vettiatore adorerebbe il libro avert da ora fino a settembre ci sono ben conto due mesi due mesi non faremo più video non faremo più video non faremo più video perchè appunto non ce ne fottiamo niente di voi sti cazzando perchè nessuno sta più qui in città stiamo tutti al mare quindi però a settembre a settembre il riniziare o non riniziare dipenderà solo da voi infatti in questo arco sarò curioso di vedere comunque sia come se si sta evolvendo il canale perchè alla fine se tutti si sono andati e fiamo verso tutti e poi sei venti inutili da ricominciare non è certo una bella cosa però da l'infine dipende da voi e rivedremo tutto a settembre perchè nessuno avrà internet quindi se tutto andrà bene a settembre inizieremo una bella serie di minecraft in survival ma non in survival semplice perchè metteremo nel server la modalità hunger games ovvero quando uno muore e fottuto e non può più entrare nella partita saremo in molti in questa partita survival e specialmente vorremmo fare una specie di contest diciamo chi vuole partecipare lo scrive lo scrive nel commento del video che metteremo e noi decideremo a sorteggio chi parteciperà naturalmente dovrete avere cuffie e tutto il resto quindi vi ringraziamo di nuovo per tutti i sostegni che ci avete dato fino a ora perchè veramente è stato grande cioè sembra poco ma da fin fine è stato grande e tutti quelli che ci hanno seguito vi vogliamo bene perchè è stato bello vedere qualcuno che ci ha seguito fino a ora e quindi ritorneremo e non ritorneremo ripeto questo dipenderà da voi quindi ragazzi non c'è più altro da dire da moito il final che stiamo dormendo da morter che non abbiamo dormito stanotte per cause extranaturali no? non mi sento perchè stiamo dormendo noi come al solito perchè non ho male da dire questa frase ci rivediamo al prossimo video ciao ciao ciao